La squadra a mio avviso inizia a avere una sua identità e quindi anche domani non cambieremo quello che è il frosinone che siamo stati comunque abituati a vedere. Abbiamo grande rispetto per il Parma, però siamo anche consapevoli di poter centrare la vittoria. Noi domani scenderemo in campo con grande coraggio, con grande positività, con la convinzione di poter fare bottino pieno. Poi ripeto, rispettiamo il Parma perché è una squadra attrezzata e di tutto rispetto, però ripeto, domani bisogna giocare, come ho detto ai ragazzi, da frosinone. Quindi con il coltello fra i denti, con grande fiducia, grande coraggio in tutto quello che sarà l'aspetto mentale di questa squadra e dovremo cercare in tutte le maniere di portare a casa tre punti. Indubbiamente stiamo parlando di assenze pesanti, ma pesanti più che altro perché non ci permettono di poter scegliere con la possibilità di andare ad avere più alternative. Però come non l'abbiamo fatto prima non lo faremo neanche adesso, non vogliamo nessun tipo di alibi e quindi anche con i rimanenti siamo nella condizione di poter vincere la partita. Quindi dobbiamo sicuramente centrare l'atteggiamento perché quello è la base, quindi il frosinone domani dovrà essere famelico per cercare di vincere questa partita e con gli interpreti che ci sono e con i ragazzi che possono avere anche loro una chance, sicuramente sono sicuro che tutti daranno quel qualcosa in più per ovviare anche a questa difficoltà. Credo che il dover fare per forza di cose o il dover per forza raggiungere a tutti i costi una cosa a prescindere da qualsiasi dinamica, credo che possa essere il vero limite che noi possiamo crearci e questo credo che con grande capacità davvero di unione tra quello che è la società, la stampa, i media e la tifoseria, io credo che in questo senso possiamo davvero dare una mano a questi ragazzi che poi sappiamo benissimo che sono gli interpreti che devono scendere in campo e che sappiamo che sotto l'aspetto della personalità devono avere quella libertà di potersi esprimere e di poter fare quello che sanno fare indipendentemente da quello che poi dopo è il risultato finale che deve essere una conseguenza di come loro si esprimono perché questa pressione se diventa negativa sicuramente può permettere il fatto che i ragazzi la subiscano.